Buon appetito! Grazie! Prego. Finta elettrica e sasci, non voglio tutto, giusto? Si. Si ha scritto che si deve mangiare separatamente? No. Ho scritto troppo meno. Non è così facile. Anche con la pasta ce l'ha in Italia, la cucina con la cucina con la cucina. Questa cucina. Ma non posso infilare il viso qua bene? Si! Ok. Mischia? Ma per me è più comodo quello da mangiare il viso quanto... Non mi ci metti male, mi ci metti pure le moce di video, non te lo faccio, va bene, buonissimo questo Questo non è caldissimo, però non troppo piccante, non troppo piccante, in realtà è buono Ma che assenza, ma cos'è questa cosa? Però ci mancano le... Io devo assaggiare questo, da me non c'è Non c'ho mangiato il mio cuore Sono finocchi, finocchi con la papi E' un gordissimo, tu? I pezzetti di carne sono buonissimo I pezzetti di carne sono buonissimo Mi scontrova, ci metti pure le moce di video E adesso passiamo al bruttino per quando hai la tecche Ma cos'è queste verdure? No Ragazzi, a me è buona questa acqua Ma la carne che carne è che brutta Ma magari non... Non c'è un po' di contenuto Un po' di infatti Non c'è un po' di infatti No, sapete fare il vino Anche adesso, ma non ci vediamo ancora la quantità. Quando poi ci siamo... Guarda! Ora è arrivato tutti i piccoli. No! Ma c'è la dura! No, no, no! Ma non posso perdere ciò nel piatto. No, no! Sì! Buon birch! Cosa di Piazza, ma non ci vediamo! Sì! No, non ci vediamo! Penso! Wow, si è già giusto? Ci vediamo qui! Non è vero. Non è vero. La soddisfazione. Ma questo non è tutto. Riso. Grazie. Qualcuno? Riso? Riso? E Zupa. E Zupa. Zupa, ok. Ok, ok. 저희 국, 리필. 얼마든지 돼요. 당연히 되는 거예요, 여기는. 누가 이렇게 잘 먹었어? 자, 감사합니다. 작은 걸로 하나? 여기? 고기 좀 줄게. 정이잖아, 그렇지? 누가 이렇게 잘 먹어? 저 강해. 네. 젊은이들이 아주 잘 먹네요. 감사합니다. 고기를 워낙 충분히 삶아 놔서 내가 이거 웬만한 설렁탕찜보다 많이 삶아 놓은 거야. 진짜 많이 주는 거 아니에요? 무지하게 주는 거야. 근데 진짜 확실히 서양사람들이 이게 신기한가? 이렇게 고기를 오래 끓이고 이렇게 부드럽게 한다는 게 원래 요리법이 없으니까. 응. 주방에 질의 Qui치. 오. 그리고. 근데 어디서 선물해봐요? 난 거의 다 나는의 Kummer을 바래요. 바이어가 좀 다 세계로. 한 번 세계로? 여기로는 아주! 한 번 세골. 난 이걸 잘 먹 years later. 라이브를 반세골. 라이브를 반세골! Buono, buono. Buono. Buono? Buono? falarino e il cuore. Au cibo. A Fin. Sì? Ho ciao. Panam binarino. Adapta! Yimmerti, manchi. Dissahli! Da, welcome. Come perché? Non cibo, papi? Sì, c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Avevo un bisotto. E noi non avevo un bisotto. Che si può mucire? Si può mucire. Dai, perché c'è? Un giovane. Non c'è andato la pittadina? Vi allocca a me. Vedi, con un panello stupendo. Io preferisco con la fittadina. La fittadina, ciò la prete. Ma che ha mangiato? Sì Adesso un po' voglio giocare aderisci Oh ragazzi, dopo andiamo dal centro Ah che fatti? Non mi fa le grazie Non mi fa le grazie Praticamente è venuta a casa Non fa niente, c'è sempre posto Per evitare all'Angelo Brahm Ah, non c'è un po' Ah, non c'è un po' C'è un po' Ah, non è più facile. Buon job! Perfetto. Oh, non è andata. Open la tua tavola. Sì, 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 sì. Ommmm! Ok. Go! Ok, ecco la tarrogo qua. Tu can't have more rice or soup if you need, refills at your time. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mmm, è buonissimo. È un brodo. Questo sicuro no. A casa mia. A casa mia oggi c'erano gli gnocchi. Noi, il giovedì faccio gli gnocchi. Buonissimo. È buonissimo, ha un sapore straordinario. Però la carne è buonissima. Mamma mia. È tenera, molto tenera. È bene, è buona. Penso di sì. La faccio sempre. Allora, questo brodo è stato fatto andare... Secondo me sì, perché c'è proprio questa brodo. Che c'è roba che comprano qua? Penso, però vedi sì. Certo il manzo non conviene. La prossima volta la farbura io. Sì, ma è un bel brodo. No, mi devono dare la ricetta. E cuocere. Per almeno quattro ore. Te lo diciamo? Avrà fatto tutto il 6 settembre al minimo. Buono, buono. Very good. Come si dice? How many hours boiled? Ah, yesterday. Ah, yesterday. 24 hours. Yeah, yeah. 24 hours. Yeah, yeah. Because the meal is very... Smooth. Yeah, smooth. Yeah, it's good. Thank you. You're welcome. 12 hours di bollito. No, è da ieri che... No, è da ieri che... Boh, lei le dice... Ah, sì, sì. Ah, beh, sì, ma che per poi io non lo guardo. Però c'è un sezette là. Io il brodo a casa quando faccio di carne comunque lo faccio cuocere. Pure io, a me la carne piace molto. Sì, no. Almeno 6, 6. No, anche di più, perché io non penso... Non c'è un po' di carne. Il da ieri. E' un po' di carne. Un po' di carne. C'è un po di carne. Benissimo. Non c'è? E' un po' di carne. Sanseginti. ... è stato troppo delicata e che mangiunganto... ... allora... ... è un segretto! ... è un segretto? ... è un segretto? ... è un segretto? ... è un segretto? ... è un segretto, secondo modo... ... è uno segretto? ... è uno segretto... ... un altes tempi, è uno agguali... è uno segretto, 4 giorni! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 그렇게 너무 긴데 종류가 많다 이거야 고기 종류가 한 가지가 거의 맛이 나는게 아니라고 아 알겠습니다 멋있게 해 한 번 더 물어봤더니 고기가 어떤 건 3일 이상 끓였어 하나는 어제 끓였어 하나는 오늘 4시간 끓였어 하나는 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 인형처럼 예프 다셨어 네 너무 잘 네 두려워 아무튼 설명해 주세요 고기가 다 달라서 보스한테 물어봤더니 시크릿 서비스 하나는 하나는 Alla cosa? La mia foto è perché mi devo portare. Lo faccio a casa. Questo non, sicuramente... Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Tu dove stai? Stavo in più a fare quello qua. C'era un'altra saletta? Sì. Io... ma che c'era? Me la avevo ancora così, è tutto molto buono. È tutto molto buono. Io... Ecco il menù. Questo è quello che hai preso tu? No. Un altro. La carne, la cosa, non c'è. Ma non c'è neanche se la voglio... No. ...ordinare. Oh my God. Vabbè. Tarot? Fonda? Kimchi? Kimchi. Kimchi? Ah, il kimchi è quello che volevo suggerire! Ma non c'è cosa... Ma non c'è una cosa? Si... Ok. Si... Un di questo? E uno di questo? E poi due sette. Si, per petto. Grazie. Maccailli, una buoncina, una giusse. No. Excuse me, one moment. Table shakes a little bit. Grazie Buon appetito Grazie Grazie Potete fare il bis del riso e zuppa Ok Buon appetito Grazie 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 Potete fare il bis del riso e zuppa Buon appetito Non mi sapevo che se ne è Mi metto sul riso Che buono Questo po' Porro è proprio crudo E se Questo è il chimio olio Non fermentato però Dice quello cotto Un po' piccante eh? Troppo! Poi dammi che devo comprare? A parte il muscolo alla signora Fontana Rosa? Io? Ah, io me l'ha chiesto! Questo è il muscolo comunque Il muscolo da già tappetto invece che i pezzi che facciamo noi Fai mettere un po' di pezzi Ma hai visto? No? No Ah, lei di Che ha detto bene Qu'è stato bene? Lei di lei 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 Scusate, si può portare questo a casa? Certo. Già oggi il fatto che hai mangiato cose diverse.